Grazie a tutti Benvenuto a Federico Rossatti e a Marco Zauli Benvenuti ad entrambi Commenteremo ovviamente la partita disputata questa settimana, martedì alle 20.30 in casa Nella vostra nuova casa, io l'ho preciso sempre che è il Pallaplorio Come vi state trovando lì? Molto bene, è un bellissimo palazzetto L'unica pecca è che ci alleniamo poco lì Però i tifosi ci seguono e questo è molto importante Quindi questo è fondamentale Io credo che andrà meglio forse parlando di numeri di tifosi nelle domeniche Perché state avendo tra virgolette la sfortuna di giocare poi in anticipo in turni infrasettimanali di martedì o di mercoledì Orari in cui comunque c'è gente che lavora Però nonostante questo devo dire che i tifosi li avete e si fanno sentire Vi hanno dato la carica giusta, ne sono certe, eravate carichi anche voi Però che cosa è successo? Avete perso 3-0 contro il Padova Che cosa non è andato Federico? Non è mai bello commentare una sconfitta Ci è mancato un dettaglio, una scintilla E quei palloni che... Cioè perdere il terzo 28-30 lì c'è poco da dire Insomma noi abbiamo combattuto Ci avete provato Ci abbiamo provato, sì Peccato perché questa enesima sconfitta ci porta magari a perdere ulteriormente delle sicurezze Che però non dobbiamo perdere perché dobbiamo essere consapevoli di quello che siamo Noi siamo una buona squadra, possiamo sicuramente fare meglio Lo dimostreremo, sono convinto di questo prossimamente nelle prossime gare Abbiamo visto prima, ringrazio la regia per averci mostrato la classifica I risultati della nona giornata La classifica vi vede purtroppo penultimi con 4 punti Coraggetemi se sbaglio Quelli invece che stavamo vedendo Quelle che stavamo vedendo erano le immagini, gli highlights Insomma della partita di martedì contro il Padova Avete giocato, ricordiamolo, in casa Marco, prima Federico diceva c'è insomma poi il rischio di E' quello di perdere un po' di sicurezza in noi Ed è quello che però non dovete fare E' ovvio che un risultato positivo vi porterebbe Anche a una situazione, a una condizione psicologica migliore Però dovete tenere duro Come state facendo in queste settimane? Certo, continuarsi ad allenare con lo spirito giusto Sicuro è la chiave giusta per andare avanti in questi casi Cosa che a noi non ci manca perché penso che siamo un bellissimo gruppo Abbiamo la fortuna di avere dei giocatori di prestigio Che ci sanno guidare anche in questi momenti di difficoltà Quindi penso che non c'è nessun problema Ha detto giocatori di prestigio Poi conosceremo meglio anche voi due la vostra carriera E il vostro percorso professionale Però intanto andiamo ad ascoltare insieme Le dichiarazioni post partita del vostro coach Lorizio Coach, oggi è arrivata un'altra sconfitta per 3-0 Però per quello che si è visto in campo Forse un risultato troppo severo per la Newmater Certo, il 3-0 è arrivato Quindi non so se è troppo severo Forse sì Per quello che abbiamo dato in campo Per quello che hanno dato i ragazzi Che sono stati straordinari Anche chi è entrato si è fatto trovare pronto Fa parte di questo lavoro Fa parte della nostra annata Dobbiamo solo sbloccarci Io credo che dobbiamo lavorare con fiducia Sempre con maggiore ancora cattiveria Io penso che anche da parte nostra E da parte mia Dobbiamo dare Devo dare qualcosa in più Forse anch'io E credo che alla prima vittoria che arriverà Ci sbloccheremo La prossima trasferta Insidiosissima Perugia contro una delle big del campionato Come si prepara una partita tanto importante Anche a livello psicologico? Dobbiamo sapere che andiamo in casa Di una delle squadre più forti d'Europa E quindi non possiamo avere Nessun pensiero sul risultato Ma dobbiamo andare lì Per cercare di provare sempre Di stare lì su ogni palla Di stare attaccati il più possibile Per quanto ci possa permettere l'altra squadra Comunque noi stiamo crescendo Stasera rispetto alle partite precedenti Si è visto qualcosa in più Dobbiamo avere la consapevolezza La fiducia Perché il lavoro porterà prima o poi I risultati E aspettare con fiducia Quindi dobbiamo lavorare E vedrete che poi alla fine I risultati arriveranno Ringraziamo ovviamente il nostro Michele Carofiglio Per aver poi realizzato le interviste Dopo partita Sei d'accordo sulle dichiarazioni del coach Federico? Sì 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 sono d'accordo Io penso che non dobbiamo pensare troppo Al risultato Specialmente con Perugia Anche se la prossima gara Insomma in programma Noi dobbiamo pensare a trovare le nostre sicurezze E da lì dopo ripartire E pensare a far bene noi Poi quello che viene Viene sicuramente Trovando queste Poi il risultato arriverà Perugia una delle big del campionato Marco Sì Sì come ha detto Federico Dovremmo andare lì tranquilli A cercare di fare la migliore partita possibile E anche Anche se Penso che sarà difficile Però anche vincere un solo set A noi Sarebbe già una grande vittoria no? Sì sì potrebbe portare a A un sorriso Che da lì dopo Chissà Poi riprendere in casa nostra con Sora E Esatto Pretendere forse il risultato Che quello Quello lo vogliamo assolutamente Andiamo a sentire un'altra intervista post partita Ad uno dei vostri colleghi E uno dei vostri compagni Roberto Cazzanica Roberto è arrivata Una sconfitta Nonostante comunque una prestazione Dignitosa per la New Mater Cosa vi è mancato oggi? Ma C'è mancato praticamente La serenità di chiudere quelle palle Senza la frenesia di chiuderle Cioè rigiocandole con tranquillità E invece per la voglia di chiudere Magari a volte abbiamo sbagliato Queste cose qua ci hanno alla fine penalizzato E adesso aspettiamo la prossima partita Dove andremo a giocare con Penso e spero più tranquillità Perché comunque andiamo a giocare a Perugia Che è la più forte che c'è adesso Insieme a Macerata Quindi Che dire Andiamo e divertiamoci raga E divertitevi Io spero che insomma Riusciate a farlo Più paura O più Come diceva Roberto Più tranquillità? Paura no Sicuramente no Sarà sicuramente emozionante Perché anche solo Star lì In quel palazzetto Per me sicuramente Sarà Sarà una grande emozione Poi vedere dal vivo Tutti quei giocatori Che ho sempre solo visto in televisione E sentito Solo nominare Per me sarà Veramente Una cosa incredibile Però nonostante tutto Come si dice no Rispetto per tutti E paura di nessuno Quindi andremo lì E faremo la nostra partita E sono sicuro che Tireremo fuori qualcosa di buono Marco Sono della stessa idea Di Federico Sì Perché in allenamento Ci mettiamo sempre Molto impegno E quindi Andremo di sicuro A Perugia Sempre carichi Come al solito E chissà che Non venga fuori Quella scintilla Che stiamo cercando E che poi Ci porteremo dietro Di sicuro Anche in altre partite Federico Dicevi Ci sono i giocatori Che ho sempre visto In tv Perché ti abbiamo conosciuto Proprio tramite lo schermo Alla fine Durante un'intervista Al tuo esordio In Superlega Qual è stato il tuo percorso Invece Prima di approdare Poi al Castellana Sì Ho fatto Anni di serie B Diciamo Dove mi sono fatto Le ossa E ho conosciuto Questo elemento qui Abbiamo giocato Insieme per tre anni E quindi Ritrovarlo qui Mi ha fatto Piacere Un sacco Quindi vi muovete Sempre a coppia Praticamente Fate tutto insieme Un binomio Ci siamo lasciati A Folli Ci siamo ritrovati Ci chiamano Cip e Cop Poi ho fatto Un bel anno L'anno scorso In A2 Partendo come secondo posto Mi sono tagliato fuori Un po' di spazio Anche in banda Ho giocato contro Castellana Grotta Appunto Dove penso di aver fatto Una buona impressione Da lì L'ha chiamata Quest'anno Quindi è tutto Un percorso di crescita Ma sono veramente contento Di essere qui Mi trovo Veramente bene Marco non faccio La stessa domanda a te Perché penso che Il percorso sia identico Al suo Sì con la differenza Che io invece Sono sempre rimasto In serie B Ho fatto questo salto Di due categorie Infatti è stato Un po' traumatico All'inizio Perché saltando La A2 A livello tecnico Diciamo Sono il più indietro Di tutti Però non demordo Perché Dà la mia Una gran voglia Di imparare Ogni compagno Di squadra Può darmi Le cose Che per me Sono più fondamentali Quindi Sono contento Del percorso Che sto facendo E chi lo sa Buono Buono Allora Un grande In bocca al lupo Ovviamente Grazie Apriamo due parentesi Perché Mostriamo un attimo La foto Che ritrae il vostro Presidente Gaetano Carpinelli Perché lo sapete Qualche giorno fa A Bari Per promuovere Celebrare In qualche modo Lo sport pugliese E arrivato il presidente Del Coni Giovanni Malagocchi Ha voluto incontrare Anche una realtà Come la vostra Insomma È bene che L'Italia Comunque L'Europa Conosca Il valore Della Puglia Dello sport E soprattutto Di giocatori Che vanno al di là Insomma Del calcio E che sono dei professionisti A tutti A tutti gli effetti Invece vorrei un attimo Aprire una parentesi E lo faccio davvero Con il cuore Perché prima dell'inizio Della partita Avete osservato Un minuto di silenzio Perché dal 20 al 26 novembre La FIPAV regionale Ha deciso di dedicare Questa settimana A una donna Che è scomparsa Federica De Luca Insieme al suo piccolo Andrea Sono scomparsi Il scorso 7 giugno A lei Che era un arbitro A livello nazionale Di pallabolo È stata dedicata Un'intera settimana Di eventi Ma soprattutto Un minuto di silenzio Quindi complimenti Anche alla FIPAV E a voi Per aver in qualche modo Onorato La figura Di una donna Soprattutto In un weekend Così importante Il 25 Ricorreva ovviamente La giornata Contro la violenza Sulle donne E che lo facciano Degli uomini Davvero È importantissimo Oggi più che mai Abbiamo aperto Queste due parentesi Però a me non resta Che farvi un grande In bocca al lupo Io continuo a dirlo Io vi voglio qui Con il sorriso Soprattutto voglio commentare Una vittoria Perché è quello Che vi serve Ve lo auguro Con tutto il cuore Si gioca domenica A che ora? Alle 18 Però c'è una differita E bisogna dirlo Perché per chi volesse Vederla E per chi non riuscisse Ad andare a Perugia Non so quanti Chifosi verranno Sul Rai Sport Alle ore 22.45 Ci sarà La partita Verrà proiettata La partita Perugia Contro il Castellana Grotte Ancora un grande In bocca al lupo Ragazzi Mi raccomando Tornate vittorosi Grazie a Federico Rossatti Grazie a lei Grazie a Marco Zavi Grazie a voi Grazie anche a voi Per averci seguito L'appuntamento con la New Matter E per la settimana prossima Buon pomeriggio a tutti